Nelle facoltà del sindaco c'è la possibilità di azzerare la giunta, cambiare assessore o deleghe agli assessori. Mi piacerebbe più una condivisione, però aspettiamo l'idea e la rotta che ha preso, sperando nel bene dei cittadini. E lo stesso Fabrizio Valloscura, dirigente di idea ed ormai ex vice sindaco del comune di Silvi, a chiarire le voci che vorrebbero una sua mancata firma. Apposta sul documento patto per Silvi 2028, la causa dell'azzeramento della giunta comunale ratificata dal primo cittadino Andrea Scordella. A questo punto Valloscura sembra sempre più lontano dall'essere riconfermato in giunta dopo i dissapori che si sono verificati anche nei mesi scorsi. E sembrava quasi che non lo volesse firmare, cosa non vera assolutamente. Io faccio parte di questa maggioranza, avevo chiesto al sindaco di sederci intorno a un tavolo, come si fa nella politica normale, di chiarire alcune situazioni e di costruire sulla roccia, come ho dichiarato, un patto che vada verso le prossime elezioni con un centro-destra unito. Noi siamo qui a disposizione e lavoriamo per i cittadini. I cittadini ci hanno votato nella volta scorsa e vorrei che lo facessero anche la prossima volta. I tempi che lo statuto comunale impone per ricostruire l'organico collegiale di Sciolto sono piuttosto stretti. Infatti il sindaco ora avrà a disposizione 15 giorni per ricomporre una nuova giunta, ma dovrà fare i conti con i consiglieri Massimo Santone e Andrea Dicenzo, che mesi fa sono usciti dalla Lega per formare un altro gruppo consigliare e ambiscono a ottenere un assessorato. Il sindaco ci ha parlato di un tavolo, noi siamo ben felici di poter partecipare e di capire quale rotta ha preso. Dobbiamo avere fiducia del sindaco, avrà sicuramente un'idea e delle proposte da farci. Quanto può rischiare la giunta comunale? Può rischiare, io vorrei che non rischiasse nulla, io vorrei che intorno a un tavolo ci si mette d'accordo, abbiamo tante cose da fare, abbiamo tanta carne al fuoco e portarle alla fine.